Una difesa della vita oltraggiata e negata. A rileggere oggi l'Evangelium Vite è impossibile non coglierne gli elementi di stretta attualità, nonostante siano passati 20 anni dalla firma del documento da parte di Giovanni Paolo II. Un evento ricordato anche da Papa Francesco all'udienza generale dello scorso 25 marzo, nella solennità dell'ascensione. Nella Evangelium Vite la famiglia occupa un posto centrale, in quanto è il grembo della vita umana. La parola del mio venerato predecessore ci ricorda che la coppia umana è stata benedetta da Dio fin dal principio per formare una comunità di amore e di vita, a cui è affidata la missione della procreazione. Proprio in occasione di questa ricorrenza a Roma, il Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari ha organizzato una giornata di studio sull'attualità dell'enciclica di Papa Voitiva. Nel suo messaggio, il Presidente del Dicastaro Vaticano, l'Arcivescovo Zygmunt Zimoschi, ha evidenziato che gli attentati alla vita hanno assunto forme sempre nuove e subdole. Un concetto condiviso anche da Don Carmine Arice, direttore dell'Ufficio per la Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana. Il problema di fondo rimane, rimane quello della dignità della persona. Vent'anni fa questa veniva minacciata, oggi viene ancora più minacciata, perché questa cultura dello scarto, come ci è stata detta, è aumentata ed aumentata fortemente. Però questa enciclica è attuale anche perché è anzitutto un annuncio del Vangelo della vita. E allora in questo senso penso che come Chiesa, come Chiesa anche italiana, noi dobbiamo essere anzitutto persone che si fanno compagno di viaggio delle persone deboli. Con questo significa anche poi denunciare quelle che sono le situazioni naturalmente che feriscono la vita, uccidono la vita. In questi anni, soprattutto in Europa, sempre più Paesi hanno relegato la questione della tutela della vita ad un ambito prettamente personale. I diritti individuali, con il tempo e in modo pericoloso, sono diventati diritti umani. Accade anche in Francia, come racconta Jean-Marie Lemenet, membro della Pontificia Accademia della Vita. I vecchi Paesi d'Europa, dopo aver autorizzato 40 anni fa l'aborto, ora optano anche per l'eutanasia per mettere fine alla vita. Si arriva quindi a controllare l'inizio della vita e la sua fine. La situazione della Francia è particolare. Abbiamo appena votato un testo che autorizza due cose, che permette da una parte l'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione e dall'altra allo stesso tempo di procurare una sedazione, ovvero di addormentare la persona. Pertanto queste leggi che ci dicono siano leggi che ci eviteranno di soffrire, sono in realtà leggi che autorizzano gesti di eutanasia in Francia. Risuona così sempre più forte l'appello di San Giovanni Paolo II che nell'Evangelium Vitae scriveva Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita umana. Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà vera, pace e felicità.